e iniziamo alla grandissima con un panorama mozzafiato dolomitico a carezza questo è il sessantesimo anniversario cioè la sessantesima edizione interbancario europeo giornata numero uno sci alpino tutti in pista un'altra giornata per l'europeisca masterscob per l'interbancario, ma è stata la prima giornata per l'anno di un'altra giornata, un'altra giornata, un'altra giornata, un'altra giornata, che si vedi! Musica Every day a sunny day in Carezza, day number 3, not only rock'n'roll on the slope, also real rock'n'roll in the party tent at the award-giving ceremonies. Check it out, all right! All the people were very focused on doing the perfect movement of classical techniques. Let's go! == Awww, ahhhh, ahhhh, ahhhh! Ahhhh! Aaaaaah! Ohhhh! Ohhhh! Ahhhh! Ah, la bella vita, la dolce vita, a carezza, anche Chill-out-Modus, questo è stato per l'interbancario in la Lauren Lounge, con un atemperaubo panorama, abbiamo visto tutti. Ma il giorno 5, questo è stato anche un Race Day Ski Alpine. So è stato fatto. Prost! What an incredible time we had here in Carezza for the European Championship of Interbancarie. I had a great time, I hope you all had a great time. I'm sorry I cannot be here tonight, but remember, keep on smiling! This is a dream, getting the royal scar, holding a diamond blade, throwing it far. Holding your breath still, you jump, that I will just sit and wait till... You see me fly, you know they'll never catch me for it. You see me fly, the way I put my finger on it. You see me fly, you got it. Then try to tell me you got the wrong guy. You see me fly, you know they'll never catch me for it. You see me fly, you see me fly, you see me fly. The way I put my finger on it, you see me fly, you got it. Then try to tell me you got the wrong guy. You see me fly, you see me fly. You see me fly, you see me fly, you see me fly. Grazie a tutti.